Trovate l'arma utilizzata da Giuseppe Laforet per colpire Lorenz Radici, il 44enne di San Giorgio Canavese. Infatti questa mattina, venerdì 25 gennaio alle 10.30 in Scarmagno, località Masoero, area boschiva. Gli artificieri del comando provinciale di Torino, in collaborazione con i colleghi di Vrez Rambino, hanno seguito l'indicazione di Laforet. Tra le starpaglie all'interno di una busta c'era la pistola Smith & Wesson calibro 22 con salvatoio a 6 colpi, in buono stato di conservazione, utilizzata dalla Laforet per commettere delitto Radici. Nei primi accertamenti è emerso che si tratta di una pistola rubata.